La fusione tra aziende energetiche e SEL potrebbe non essere un'utopia. La Giunta Comunale di Bolzano ha autorizzato aziende energetiche ad avviare la due diligence con SEL. In sostanza si tratta di dare avvio alla valutazione del patrimonio delle due società nell'ottica di una fusione. Tutti i membri dell'esecutivo guidato dal sindaco Luigi Spagnoli hanno approvato all'unanimità la delibera, anche se la decisione finale spetterà comunque al Consiglio Comunale. Perplessità riguardo ad una possibile fusione sono state comunque espresse da SEL, Verdi e la stessa SVP, che fa parte della Giunta. Secondo Guido Margheri, consigliere comunale di SEL, l'autorizzazione ad una valutazione sul valore di SEL e di aziende energetiche in relazione ad un possibile accordo non tutelerebbe a sufficienza gli interessi della stessa E e non garantirebbe a sufficienza reali prospettive economiche ed industriali. Secondo Margheri, occorrerebbe integrare la delibera con maggiori garanzie sui debiti progressi, indicazioni certe sul fatto che il reale valore di azienda energetica non possa essere depauperato dal risultato di gare e truffaldine che hanno aumentato in modo illegittimo e quindi artificiale il reale valore di SEL. Il sindaco Luigi Spagnoli non nasconde il fatto di aver autorizzato A.E. ad avviare delle specifiche valutazioni, ma parlare di fusione, certa, è azzardato. No, questa è una fesseria che è stata resa pubblica in maniera non corretta, nel senso che non si parla di fusione nella delibera e non ci pensa nessuno. La realtà è che c'è bisogno di prendere una decisione. Noi entro fine anno, se non si decide nulla, avremo delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che stabilirà se le concessioni che sono state date in passato a SEL di fatto rimarranno oppure no, se non rimarranno ci saranno rimesse in gara. Noi siamo convinti, come Comuni di Bolzano e di Merano, che questo comporta dei rischi per la nostra azienda, cioè il rischio di ritrovarsi nel giro di pochi anni completamente senza concessioni e quindi noi ci ritroviamo senza azienda. Quindi c'è bisogno di fare un ragionamento serio, non come è fatto finora, anche finora era serio, ma era fatto sulla base di approfondimenti tra tecnici e giuristi messi in campo senza che avessero una responsabilità rispetto alle loro valutazioni e ai loro studi. Adesso abbiamo bisogno di qualcuno che metta per iscritto delle valutazioni e gli studi certificati perché solo sulla base di valutazioni e studi certificati i consigli comunali possono prendere decisioni. Intanto anche la Giunta Comunale di Merano ha dato il via libera alla procedura per ottenere una valutazione sugli effetti che future collaborazioni o fusioni potranno determinare. La posizione della Giunta Meranese rispetto a quella di Bolzano appare però più prudente. Per il sindaco Günther Janot, A.E. dovrà dimostrare concretamente quale sarà il maggior valore che un'operazione di fusione potrà portare al Comune Meranese e ai suoi cittadini e in che modo verrà risolta l'avvertenza giuridica in corso.